Buongiorno a tutti, io sono Marcella Schmidt di Friedberg, sono docente di geografia umana presso l'Università di Milano Bicocca, presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione e da tempo collaboro e lavoro per il Mare Center che ha sede alle Maldive. La mia geografia ovviamente riguarda soprattutto gli insediamenti umani e quello che voglio fare oggi è di presentarvi a grandi linee le Maldive dal punto di vista storico e culturale, quindi un inquadramento poi qualcosa sugli aspetti storici e i cambiamenti che ci sono stati fatti e ci sono avvenuti recentemente. Ovviamente dal punto di vista geografico, quando parliamo di qualsiasi luogo, la prima domanda è dove siamo? Quindi partiamo proprio da questa riflessione, dove siamo? Cosa sono le Maldive? Si può rispondere ovviamente in vari modi, la più ovvia, la più logica potrebbe essere la lottitudine, la longitudine, i confini, le dimensioni del territorio. Di fatto le Maldive sono un arcipelago che è costituito da più di 1100 isole situati tra la penisola del Deccan e il canale degli otto gradi e l'equatore su una dorsale oceanica dove ci sono anche due altri arcipelagi, ci sono le Lakadive, le Lakshuadive e Chagos. La definizione poi amministrativa delle Maldive è abbastanza complicata, in realtà ci sono 26 atolli ma sono definiti in maniera più complicata dividendo ambienti urbani e non urbani. Quello che è sicuramente interessante del paese è che ci sono circa 200 isole abitate e quasi altrettanti invece adibite a resort turistici, quindi il turismo ha un ruolo molto importante nel paese. La popolazione è di circa 500.000 abitanti in crescita. Ci sono anche poi diverse isole, molte isole che non sono abitate ovviamente. Questo era un modo di presentare il paese. Bisogna fare molta attenzione comunque alla geografia. Questa è più o meno la situazione che potevamo avere di fronte quando io andavo a scuola, cioè Grembiulino e sullo sfondo della classe, alla scuola primaria, una carta geografica. La geografia di fatto, come ci dice un geografo francese, Yves Lacoste, proprio nel momento in cui sembra inutile il discorso geografico, esercita la funzione mistificatrice più efficace. Il tour de force è stato di far passare un sapere strategico, militare e politico per un discorso pedagogico e scientifico perfettamente inoffensivo. Per cui da questo punto di vista bisogna pensare che quando si parla di geografia l'aspetto politico è molto importante. Quindi se ci portiamo di nuovo la nostra domanda dove siamo, vediamo che siamo anche in una zona che potremmo definire strategica. Già alla fine dell'Ottocento Alfred Mahon diceva che chiunque controlli l'Oceano indiano domina l'Asia. Nel ventunesimo secolo il destino del mondo sarà deciso sulle sue acque. Sicuramente oggi l'area dell'Oceano indiano è molto importante da diversi fattori. Qui vediamo ancora una volta questa dorsale con al nord le Lacca Dive che appartengono all'India, al centro le Maldive e a sud l'arcipelago di Chagos. Quest'area è molto importante per diverse ragioni, tra cui, forse questa è la principale, è l'area di trasporto dei rifornimenti energetici per paesi importantissimi come l'India e la Cina, quindi è questa rotta energetica che passa attraverso l'Oceano indiano e è molto importante poi dal punto di vista dei cambiamenti recenti come il turismo, da conflitti tra le grandi potenze che stanno emergendo soprattutto tra l'India e la Cina e anche dall'introduzione di nuovi modelli culturali che provengono dall'Occidente. Quindi anche paesi piccoli come la Vandive sono investiti da queste serie di trasformazioni che sono molto importanti. Cioè è un paese che sta cambiando estremamente rapidamente. Ancora sempre la stessa visione strategica, se vogliamo. Vediamo che è un'area di grandi conflitti, vi ho citato l'arcipelago di Chagos, a Chagos c'è una delle più importanti basi navali degli Stati Uniti che si chiama Diego Garcia, da cui sono partiti gli attacchi all'Afghanistan per esempio. Ci sono presenza di pirati in molte aree e soprattutto questo incontro, scontro tra l'India e la Cina, ma vediamo quanto è importante quest'area. Le Maldive, un paese molto piccolo, come vediamo nel disegno qui di fronte, sono proprio un pesciolino tra l'India e la Cina, cioè con anche investimenti da parte di due paesi, alleanze più o meno strette a seconda dei periodi politici e anche una ricerca sempre di nuovi investimenti e di nuove strategie per avere un ruolo importante in quest'area. Passiamo a quella che è la storia, solo con qualche accenno veloce. Vediamo che la storia delle Maldive è molto antica, sono stati trovati dei resti archeologici che vedono insediamenti fino anche al 1500 avanti Cristo. vediamo che erano soprattutto culture buddiste e induiste e l'Islam è arrivato nelle isole nel XII secolo. Troviamo comunque ancora dei resti precedenti che si rifanno al modello di una stupa, la stupa è un monumento religioso buddista e di questi resti ne troviamo in molte isole, soprattutto al sud ma anche in altre parti del paese. Quindi dei resti che ormai sono più o meno abbandonati ma che ci fanno vedere questa importante cultura antica. La conversione, questi resti sono stati tra l'altro indagati da diverse spedizioni di archeologi, quella forse più nota e che si tradusse poi in un libro che è tradotto in italiano e si chiama Il mistero delle Maldive da fine degli anni Ottanta fu scritto da Thor Heyerdahl, forse avete già sentito nominare questo autore che scrisse un'opera molto nota che si chiama Contichi, forse il Contichi l'avete già sentito nominare da qualche parte, la teoria di Thor Heyerdahl che era un esploratore, un regista, uno scrittore più che un vero scienziato, era che le popolazioni del Pacifico, quindi della Polinesia, provenissero dall'America Latina. Quindi subito dopo la guerra nel 1947 costruì una zattera di bambù e con un gruppo di colleghi e marinai riuscì a rarrivare di fatto dal Peru fino alle isole del Pacifico. Compì poi altre esperienze, spedizioni in varie parti del mondo e nell'anno Ottanta ebbe un contratto da parte del governo delle Maldive per compiere degli scavi archeologici in diverse isole e di fatti trovò moltissimi resti, soprattutto buddisti e hinduisti ma anche secondo la sua teoria di una civiltà che erano, di adoratori del sole che erano presenti nelle isole. Quindi vediamo anche un po' di fantasia in queste interpretazioni. La lingua delle Maldive è il Divei che è una lingua che viene parlata solo in questa regione, solo alle Maldive e nell'ultima delle isole l'Accadive, cioè Minicoi e che è stata collegata al singalese ma anche al sanscrito come base o di origine. In questa lingua tra l'altro poi si è trasformata nel tempo ma abbiamo ancora delle tracce su delle tavolette di rame come vediamo nell'immagine che risalgono al XII secolo. Invece la religione è l'Islam di setta sunnita dal 97 è l'unica regione ammessa nel paese e la legge, anche il governo, si basa sulla legge islamica cioè la sharia. Sapete che il sunnismo è forse l'orientamento maggioritario dell'Islam. Nel paese l'Islam era praticato con grande tolleranza, si vede recentemente, secondo anche un'idea globale di Islam che si sta espandendo anche in altri paesi, un irrigidimento di molti dei suoi principi. Secondo la leggenda comunque la conversione avvenne per un'opera di un nerudito islamico che andò a visitare le isole, questo Abul Barakat, e mentre risiedeva a male sentì una storia terribile perché ogni mese una ragazza veniva sacrificata a un mostro che veniva dal mare e un giorno vide la padrona della sua casa che stava piangendo e proprio la sua figlia doveva essere sacrificata a questo mostro, questo mostro di nome Rannamari. Allora l'erudito islamico ha detto di non preoccuparsi, si vestì da donna, andò al posto della ragazza nel luogo del sacrificio, pregò tutta la notte ed indomani si trovò ancora a dedito la preghiera e il mostro non apparve mai più. Per questo evento così straordinario il sultano si convertì all'islam ed a quel momento fu l'unica religione accettata nel paese e tutti i templi precedenti dovettero essere abbattuti. Ovviamente le cose non succedono mai così, probabilmente la conversione all'islam fu molto più lenta e meno radicale ma sicuramente dalle origini l'organizzazione religiosa cambiò totalmente. Ci possiamo chiedere, questa forse è una domanda che viene a molti che vanno a visitare oggi le Maldive ma come mai questo irrigidimento? Se vediamo delle immagini degli anni 70 come questa in cui si vede una gara di bellezza tra ragazze maldiviane negli anni 70 non c'era sicuramente questa tendenza. Ormai praticamente tutte le donne hanno il velo e anche il burca in molti casi, molte isole. La situazione è molto complicata, ci vorrebbe un'intera lezione solo per affrontare questo argomento ma sicuramente la spiegazione non è unicoca. Naturalmente c'è un'impostazione religiosa, sapete bene che l'isman non impone il velo a nessuno, dall'altra parte c'è sicuramente una cultura familiare, può essere anche l'imposizione da parte della famiglia del marito, ma anche una scelta personale delle donne oppure seguire dei modelli che seguono la maggior parte delle altre persone. Infatti nella capitale delle Maldive a Male ancora si vedono donne senza il velo, in molte isole ormai invece tutte le donne sono velate ma bisogna anche pensare com'è difficile distinguersi in un ambiente chiuso come può essere quello di un'isola. Ancora è praticata anche una forma di magia che si chiama fandita che è un sistema magico che ha convissuto molto bene con l'islam e ci sono incantesimi, reti magici eccetera soprattutto per combattere gli spiriti maligni che si chiamano Jin e questa attività magica era ampiamente riconosciuta dal governo e ancora adesso viene probabilmente praticata ma ovviamente è difficile avere delle informazioni precise. Il tema di questo incontro è proprio l'isolamento o globalizzazione. Ci si può chiedere erano veramente isolate le Maldive? In realtà ancora una volta vediamo questa area strategica e questa trasmissione di merci di informazioni di persone dai paesi arabi fino alla Cina quindi una rotta molto percorsa per motivi commerciali sia per terra che per mare ma che passava proprio nella via oggi si parla molto di nuova via della seta la via della seta passava per terra ma vi era anche questo passaggio per mare che metteva molto bene in contatto delle realtà lontanissime appunto dai paesi arabi fino alla Cina. Se guardiamo la cartografia storica che è un campo molto affascinante vediamo che in molte delle mappe classiche del passato le Maldive erano precisamente identificate quindi erano ben conosciute le troviamo in tutti i grandi classici del Rinascimento nel Quattro del Cinquecento quella di Orteglio dell'Atlante Miller quella di Fra Mauro eccetera ma anche in carte cinesi dove sono anche ben indicate questi commerci avvenivano anche per la favorevole meteorologia che ci rappresenta in buona parte dell'anno cioè alle Maldive possiamo a grandi linee distinguere due stagioni che si chiamano Iruvai e Hulango Iruvai è la stagione che va da novembre ad aprile in cui soffia il monzone di nord-est e questo permetteva la flotta maldiviana che era andata a commerciare nella Baia del Bengala e in India di tornare verso le isole questa è anche la stagione più favorevole per visitare questo paese perché è un periodo asciutto con dei venti freschi e i mari calmi la stagione invece di Ulangu dove il monzone di sud-ovest invece da maggio-ottobre soffiava nell'altra direzione quindi permetteva di andare a commerciare verso l'India mentre appunto Iruvai si ritornava alle isole e invece è l'aria più umida dove ci sono anche molti uragani e temporali quindi una stagione meno favorevole anche per il turismo oggi in genere si va alle Maldive nella stagione più asciutta I Maldiviani hanno anche prodotto un sistema un calendario molto preciso che organizzava tutte le attività sono dei periodi molto più brevi di 10-12 giorni che si chiamano Nakai e in ogni Nakai vengono indicate precisamente quelle che erano le informazioni utili cosa pescare come andava il meteo quali piante piantare eccetera eccetera anche eventi fausti o infausti legati alla magia e quello che è interessante è che un Maldiviano ha recentemente invece messo questo sistema dei Nakai sulle applicazioni per il telefono per cui se vi incuriosisce trovate facilmente queste stagioni queste brevi stagioni con informazioni relative su qualsiasi telefono credo sicuramente l'iPhone ma forse anche gli altri e lì possiamo vedere cosa sta succedendo proprio in questi giorni è interessante perché appunto essendo dei periodi molto brevi è molto approfondito il tipo di informazioni che viene dato si navigava con diversi tipi di barche il più classico è il Doni ancora adesso si usa molto naturalmente adesso il Doni non è più a vela ma è a motore veniva usato per questi trasporti anche su percorsi lunghi ma anche per pescare e anche per pescare attualmente viene regolarmente usato per le comunicazioni tra isole vicine e anche nei resort con la stessa forma che è molto apprezzata anche dalle attività turistiche alle Maldive si arrivava spesso anche per naufragio pensiamo come può essere difficile navigare sulle scogliere coralline quindi dove affiorano i coralli quindi molti dei storici visitatori nelle Maldive arrivavano dopo un'emergenza è molto interessante perché ci restano poi delle testimonianze di questi viaggi uno dei più noti è quello di un francese che all'inizio del Seicento naufragò appunto alle Maldive e rimase per sei anni sulle isole quindi abbiamo una dettagliata descrizione delle sue attività e di come era la secità allora è molto interessante quindi poter proprio vedere come erano tutti i tipi di attività François Pirat de Laval si spostò poi dall'isola dove era naufragato verso la capitale fu ospite del Sultano quindi ci narra proprio la vita reale di quei tempi quali erano i commerci ovviamente vediamo che siamo in un paese molto poco ricco di risorse naturali l'agricoltura quasi inesistente quindi tutto ancora oggi viene importato si esportava il pesce ovviamente il cocco spesso il pesce poi seccato per poterlo commerciare prodotti come la corda che veniva fatta utilizzando le fibre del cocco e poi se si era fortunati si poteva trovare quella che è l'ambra grigia che è una sostanza che veniva usata per i profumi che viene dall'intestino del capodoglio e che poteva essere ritrovata sulla spiaggia se qualcuno di voi ha letto Moby Dick vi ricorderete di quanto era importante questa sostanza che era quindi come trovare un tesoro la cosa più importante comunque negli scambi antichi delle Maldive è una conchiglia che si chiama Ciprea Moneta e che veniva utilizzata regolarmente proprio come moneta quindi le Maldive producevano denaro vediamo queste testimonianze di questa conchiglia anche testimonianze antichissime ma fino al settecento in molti paesi del Pacifico in Africa oltre che nell'Oceano indiano veniva regolarmente proprio utilizzata come moneta quindi era una produzione di denaro che arrivava fino alla Cina i viaggiatori erano molti vediamo quanto ci si muoveva in queste epoche antiche forse uno dei più noti è battuta qui c'è il complesso itinerario dei suoi movimenti scrisse un'opera molto famosa che si chiama La Rila cioè semplicemente il viaggio in cui racconta le sue esperienze di viaggio e a un certo punto arrivò anche alle sue pellegrinazioni arrivò alle Maldive dove rimase per un lungo tempo e si sposò diverse volte e si fu occupato come giudice nel paese in questi tagliati resoconti di battuta vediamo era anche e ricordato anche come un grande geografo proprio per questa capacità di narrare i luoghi dove aveva viaggiato e il suo giudizio sui Maldiviani era abbastanza negativo perché descrive una popolazione secondo il suo punto di vista molto fragile e racconta che appunto i loro corpi sono deboli non sono abituati a combattere in guerra le loro braccia sono la preghiera e una volta che facendo il giudice ordinò di tagliare alla mano a un ladro diversi dei presenti svennero proprio per lo shock di vedere questa punizione così dura e criticava molto anche le donne che secondo lui erano poco vestite e non si comportavano secondo i canoni dell'islam appunto in questo senso storicamente le Maldive hanno avuto una presenza femminile molto importante anche diverse sultane e i loro costumi erano molto più liberi che in altre parti dell'area islamica e il velo non esisteva assolutamente in questi contatti di questi scami controllari vediamo tracce in molte cose per esempio nella musica la forma più nota di musica maldiviana si chiama bodu beru il bodu beru è un tamburo bodu vuol dire grande e beru vuol dire tamburo grandi tamburi fatti in origine con la pelle delle razze o delle malte ormai invece pelle di capra molto tesa e con un ritmo molto vicino a quelli africani per cui si vede qui probabilmente un'influenza africana viene l'uso del bodu beru adesso è praticato anche per scopi turistici ma in genere veniva usato in tutte le grandi celebrazioni o manifestazioni di diverso genere con una grande partecipazione della gente l'ambiente maldiviano è quello forse dei nostri sogni anche esotici le isole sono sabbia la vegetazione sono le palme il mare è azzurro la palma è stata riconosciuta come l'albero nazionale delle Maldive viene usato in tutte le sue parti per fare di tutto per le costruzioni legno per le fibre per fare le corde le scope si può mangiare in ogni sua parte ci sono sei o sette parole che indicano le fasi di maturazione che vengono usate nella cucina con usi diversi il più noto forse è il curumba che è quello da cui si beve succo anzi in genere quando uno va a visitare le Maldive viene sempre offerto un curumba cioè un cocco fresco di cui si beve questo succo rinfrescante e veniva quindi è una pianta importantissima quasi tutte le isole hanno delle piantagioni di cocco e proprio l'importanza di questa pianta si vede ancora oggi le fronde vengono usate per costruire i tetti venivano usate per costruire i tetti delle case e attualmente sono stati recuperati per i resort quindi per poter avere queste abitazioni che hanno un'area molto tradizionale e quindi è ritornato anche il commercio di queste fronde di palma è divertente quello che ci dice ancora Iberman battuta sulla noce di cocco l'albero del cocco è simile all'albero del dattero a meno il fatto che fa dei cocchi il secondo il cocco assomiglia alla testa umana c'è una parvenza di occhi e bocca sul guscio e quando è verde il suo interno è come il cervello e le fibre del guscio sono a forma di capelli questo è proprio preso dalla rilla di battuta tra le proprietà di questa noce di cocco ci sono le seguenti rafforza il corpo rende tonici aggiunge la rotabilità del viso e agisce meravigliosamente nel tonificare la potenza sessuale una delle sue meraviglie è che se tagliata mentre ancora verde si può bere la sua acqua estremamente deliziosa e fresca che genera calore e agisce come un artrodisiaco diceva lui dopo aver bevuto l'acqua un pezzo del suo guscio viene trasformato in una specie di cucchiaio con cui si estrae il noccio che ha il sapore di un uovo mezzo mollito e del nutriente questo ha formato la mia dieta principale durante il mio soggiorno alle isole Maldive per un periodo di un anno e mezzo quindi vediamo l'importanza di questa pianta invece per quel che riguarda la vita animale le Maldive sono molto povere praticamente non ci sono mammiferi parliamo di animali terrestri perché poi ovviamente invece la vita acquattica è ricchissima l'unico mammifero degli ogni nota forse è la volpe volante che è un animale bellissimo secondo me e poi ci sono soprattutto piccoli mammiferi insetti animali domestici anche sono pochissimi praticamente non se ne trovano se non su qualche isola capre o polli ma torniamo ora a qualche cenno storico vediamo che le Maldive in realtà non furono mai realmente occupate quindi durante l'epoca coloniale per questo hanno mantenuto una cultura autonoma molto netta nel cinquecento erano una tappa per i commerci arabi fino al cinquecento poi bengalesi poi portoghesi poi inglesi vediamo che i portoghesi arrivano dalla base di Goa in India e a un certo punto a metà del cinquecento occupano le isole e si stabiliscono proprio come forza di occupazione nella storia Maldiviana questo periodo che è un periodo molto breve dal 1558 al 73 e tra le altre cose fu imposto il cristianesimo pena la morte a un certo punto ci fu una grande rivolta e i Maldiviani riuscirono dopo un periodo di resistenza a cacciare gli invasori molto importante questo perché quando si segue la storia delle Maldive devo dire che una delle prime cose che noi abbiamo fatto venendo nel paese è stata proprio quella di cercare di trovare delle fonti e siamo andati alla scuola la scuola Maldiviana ha una parte del curriculum in inglese per cui si trova facilmente dei materiali leggibili anche per chi non conosce il DVI e questo periodo dell'occupazione portoghese era proprio segnato come per noi poteva essere la peggior periodo del risorgimento quindi la capacità dei Maldiviani di ribellarsi all'occupazione straniera e abbiamo anche il Garibaldi Maldiviano che si chiama Bodo cioè il grande Muhammad Takurufanu che appunto con un gruppo di seguaci riuscì ad aggredire la guarnigione di Male e a cacciare definitivamente i portoghesi quindi c'è la tomba di Takurufanu a Male ed è considerato proprio un luogo di pellegrinaggio per l'importanza di questa figura che appunto si ribellò a una epoca in cui gli infedeli invasori commettevano intollerabili ingiustizie in cui il mare diventava rosso di sangue Maldiviana in cui la gente affondava nella disperazione quindi vediamo l'importanza proprio di questo momento di rivolta contro lo straniero dopo i portoghesi in realtà i Maldiviani continuarono sempre a pagare un tributo alle potenze straniere che furono poi dopo i portoghesi gli olandesi e poi dopo gli olandesi gli inglesi a partire dalla seconda metà del Settecento e che alla fine trasformarono le isole e l'arcipelago in un protettorato che andrà avanti fino al 1965 ma a differenza che in altre parti dell'impero coloniale inglese gli inglesi non avevano mai una residenza stabile sulle isole e ne furono costruite infrastrutture e strade come in India per esempio quindi ci sono ben poche tracce di questa occupazione soprattutto era importante un tributo e nell'87 fu accettato la forma del protettorato all'indipendenza si arriva nel 65 e nel 68 viene dichiarata la Repubblica il primo presidente sarà Ibrahim Nasir che resterà al potere per una decina d'anni nel periodo adesso poi non sto a farvi non sto a seguire tutti i dettagli della storia recente ma vediamo che uno delle forse cause della grande trasformazione del paese nel periodo recente sarà proprio il turismo è interessante vedere che il turismo in realtà è arrivato abbastanza tardi cioè c'è un resoconto della fine degli anni 50 di uno dei primi esploratori subacquei che con una nave a vela andò a visitare le isole e scrisse un'opera che si chiama spedizione nello sconosciuto è anche una serie di filmati per il cinema tedesco in seguito vediamo che all'inizio degli anni 60 in un rapporto delle Nazioni Unite si dichiara tranquillamente che il turismo non riuscirà mai a avere un'importanza nel paese perché mancano le infrastrutture di fatto vediamo invece che subito dopo partirà questa curva quasi esponenziale che andrà che vede il turismo crescere continuamente avete un'idea di perché vedete c'è un punto di calo in questa curva beh se mi viene in mente molto bene ma comunque ci arriveremo il turismo viene portato a partire dagli anni 70 e i primi investitori sono italiani e vedremo che molto del turismo delle Maldive è proprio italiano il primo resort che si ha preso il nome da quel cocco che avevamo già nominato come quello che viene offerto ai visitatori per berne il sugo e si chiama quindi Curumba naturalmente diventato un resort a 5 stelle e fu avviato da due imprenditori maldiviani in associazione con questo Corbin che è un italiano le infrastrutture erano molto poche le case erano delle case con il tetto di paglia ci si spostava con le barche a vela ma il turismo iniziò subito a crescere i maldiviani furono anche molto attenti alle conseguenze del turismo e di fatto il divieto di pesca del fucile parte dagli anni 70 vediamo che i primi turisti andavano proprio a cerca di questo tipo di esperienza Corbin e il fotografo Francesco Bernini nel 73 pubblicano un libro che diventerà molto noto che si chiama Maldive 2000 isole felici quindi in cui ci incominciano a proporre il mito delle Maldive come straordinaria metaturistica internazionale per la bellezza proprio del mare del clima e di queste isole con sabbia e palme l'ideale per ogni immaginario turistico il turismo continua a crescere e si introduce l'idea del resort che è un una infrastruttura turistica basato su una serie di bungalow o capanne separate e l'uso anche di quelle che vengono chiamate le water villa cioè di parte di queste abitazioni che sono a diretto contatto dal mare da cui si può entrare direttamente in acqua il turismo continua a crescere fino ad arrivare al milione e mezzo di persone attuali quello che è molto interessante è il modello di turismo che viene proposto alle Maldive cioè l'idea di poter avere dei resort e di e questa fu una delle anche modelli proprio proposti dal governo cioè di non mettere a contatto i turisti con gli abitanti quindi fino a pochi anni fa il modello si chiamava One Island One Resort cioè i resort potevano essere costruiti solo in isole non abitate ci doveva essere un resort in ogni isola e i turisti non potevano avere accesso alle isole abitate questo anche per come dire proteggere la cultura autonoma autentica Maldiviana e non farsi invece non rimanere invece colpiti dalle differenze che il modello di turismo occidentale pensiamo nel vestirsi poco coperti eccetera potevano portare in comunità ancora tradizionale quindi l'idea è un turismo completamente controllato dallo Stato una segregazione spaziale cioè qui i turisti per esempio nelle Maldive è proibito l'alcol dalla legge nei resort invece si può bere tranquillamente anzi il governo ha al 100% di tasse su quello che si consuma quindi proprio due mondi separati nelle isole abitati che adesso con un sistema di guest sono aperte anche ai turisti si deve tenere un abbigliamento consono a quello locale quindi non si può andare in giro non si può neanche fare il bagno se non in certe bikini beach definite precisamente in alcune isole nell'isola dove andiamo noi con gli studenti non c'è neanche una bikini beach per cui bisogna sempre fare il bagno con una maglietta dei pantaloncini ma non in costume da bagno quindi per rispettare la tradizione locale mentre nel resto invece si può non si può si può mangiare carne di magnale che ancora nelle isole abitati non esiste perché non è compatibile con la religione quindi vediamo questa segregazione spaziale da una parte dall'altra parte un mercato del lusso quindi il turismo maldiviano punta su dei modelli sempre più elevati e poi con una concentrazione regionale anche dei resort quindi con in partenza soprattutto la vicinanza male come uno dei punti di attrazione pensiamo per i trasporti quindi le isole più lontane richiedono lunghi percorsi o con un altro aereo o con un idrovolante o con una barca quindi si cerca di avere resort di grande attrazione ma soprattutto vicini alla città e vediamo che il turismo diventa la più principale risorsa dell'economia maldiviana il modello è quello del paradiso ripeto ancora mare acqua sabbia palme questo è l'immagine ideale delle maldive l'acqua è strepitosa nei suoi colori il cielo è azzurro il modello è proprio di potersi ricreare in un periodo dell'anno magari quello che è per l'Europa quello più freddo invece in un luogo caldo dove potersi dedicare completamente ai proprio stare bene il quest'immagine è quella del paradiso se si cerca su google maldive si trova un certo numero di cose se si mette di risposte maldive più paradiso questi crescono ancora di più e questa crescita continua lo slogan del turismo maldiviano è the sunny side of life quindi proprio questa godere proprio esperienza in un luogo meraviglioso vi dicevo la rincorsa del turismo di lusso le isole sono sempre uguali se vogliamo ma con una serie di investimenti in servizi che sono sempre più piacevoli teniamo conto che un resort di gran lusso può arrivare ai 20.000 euro al giorno per avere un'idea di prezzo recentemente si usa molto il sott'acqua cioè camere o ristoranti questo è un ristorante con da cui si può vedere la vita marina dall'interno oppure l'idea di un isolamento in alcune dei luoghi più ricercati ci sono pochissimi posti letti uno può praticamente avere tutti i servizi immaginabili in una piccola isola dove siamo solo noi e possiamo proprio goderci il nostro tempo libero questi paesaggi di acqua seascapes ma è veramente così solare la vita delle Maldive vediamo che per arrivare all'epoca più vicina a noi quindi oltre a questa crescita del turismo di lusso vediamo che ci sono degli effetti di questo rapido cambiamento anche dal punto di vista della società con occidentalizzazione con nuovi stili di vita nuovi modelli anche e anche il sovraffollamento soprattutto della capitale la capitale delle Maldive è un'isola piccola con una densità di abitanti tra le più alte del mondo attualmente si sta cercando invece di diminuire questa densità creando isole come un umale accanto alla capitale dove appunto poter un po' decongestionare l'isola principale dove risiede ormai un terzo della popolazione se non di più ci sono problemi poi di crescita della criminalità di gang giovanili di molto diffusione di ogni genere di droga quindi vediamo che appunto la vita dei Maldiviani può essere più complessa di quel che ci può dare l'idea queste delle isole più lontane dalla capitale con pochi abitanti e una vita molto tranquilla il picco che avevamo visto nella curva della crescita del turismo è legato allo tsunami del 2004 non so ovviamente qualcuno di voi si ricorderà di quanto è stato drammatico questo evento alle Maldive sono state l'effetto del tsunami è stato drammatico in moltissime isole soprattutto con grandi danni all'edilizia e alle infrastrutture per fortuna per diversi motivi tra cui il fatto che lo tsunami arrivò in concomitanza con la bassa marea che è la protezione anche della scogliera corallina in alcune aree delle mangrovie aiutò a diminuire l'effetto dell'onda i danni furono molti ma le vittime abbastanza ridotte pensiamo alle centinaia di migliaia di morti in Indonesia qui ci fu al massimo un centinaio di vittime i danni furono forti invece ad esempio per quel che riguarda gli approvvigionamenti anche ad esempio l'acqua perché ad esempio materiali come l'asbesto che si trovava sul tetti delle case finirono nella falda che dallo tsunami ormai quasi nessun'isola può usare l'acqua delle falde vediamo quindi un un paese che ha ripensato dopo lo tsunami a partire dal 2005 molto delle proprie attività che ha visto una flessione nell'attività turistica ma poi una piena ripresa ma che ha anche cercato di trovare altri tipi di modelli di sviluppo quindi basandosi non più solo sulla monocultura turistica ma cercando di concentrare soprattutto la popolazione verso la capitale quindi con l'idea di poter dare occupazione anche la disoccupazione è molto alta soprattutto quella giovanile anche nelle isole alle Maldive in genere si parla di male e le isole che sono quelle più lontane dove appunto molte di questi conflitti sono meno forti una delle soluzioni che sono state pensate è quella che viene chiamata la land reclamation cioè l'idea di costruire semplicemente delle isole artificiali come è un umale oppure di ampliare le isole cioè questa è un'isola nell'atolo di dal che fu molto danneggiata dallo tsunami la soluzione la risposta fu quella di semplicemente raddoppiare la superficie o quasi triplicare la superficie dell'isola quindi di costruire delle parti o delle intere isole artificiali questo è ovviamente una soluzione che è stata molto criticata dagli ambientalisti perché ovviamente porta molti danni ai coralli e molti di questi progetti sono ancora discutibili proprio per la realizzazione o per come potrà crescere poi le infrastrutture e tutto il sistema di vita nelle isole il modello del futuro almeno negli ultimi anni è stato quello di avere una prospettiva che potrebbe avvicinarsi a quella se vogliamo di Dubai o di Singapore cioè grandi infrastrutture e creazione di spazi con uno stile di vita molto più vicino al nostro quindi appartamenti condomini un'attività anche impiegatizia per la popolazione pensiamo che nelle isole dove di sabbia e palme la popolazione si dedica ancora in gran parte alla pesca oppure alla coltivazione delle palme ma poche altre risorse ci sono vicino a male è stata quindi costruita una grande isola artificiale che dovrebbe arrivare quando sarà compiuta a poter ospitare una quasi centomila persone con tutte le infrastrutture le attività che questo porterà vediamo nel graffito in basso come la popolazione sta in gran parte anche per questa politica governativa che è andata avanti negli ultimi anni c'è stata una crescita della popolazione a male e un umale che sono i due picchi che voi vedete in alto mentre molte altre isole tendono a avere una decrescita delle popolazioni addirittura alcune ad essere abbandonate perché non hanno quasi più abitanti nel 2018 c'è stato un cambiamento ancora una volta la politica recente è abbastanza complicata con una serie di passaggi ma vi voglio fare vedere adesso quello che è stato il presidente dal 2013 al 2018 Abdullah Yamin Gayun solo brevemente l'idea di crescita di sviluppo delle Maldive secondo Yamin questo è interessante perché vediamo un'idea di Maldive che secondo me è ancora poco poco nota cioè in genere noi pensiamo alla sabbia e alle palme invece qui vediamo proprio un modello che è basato su una crescita molto rapida con poca attenzione se vogliamo ai problemi ambientali ma sicuramente un grosso investimento e questo video che vediamo se riusciamo a far partire è parte della campagna elettorale del presidente Gayun che era già al potere e che invece dove si sta preparando alle elezioni del 18 che invece quasi inaspettatamente perse lasciando poi il governo attuale che un governo democratico con un altro modello di sviluppo solo vi faccio adesso fare a tutti a participo a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.